La decisione assunta ieri dall'Assemblea regionale siciliana riguardo la vicenda dei liberi consorsi che di fatto impedisce la migrazione del comune di Gela verso l'area metropolitana di Catania così come di altri tre comuni ha sollevato polemiche e reazioni da parte innanzitutto dei comitati che si sono spesi per questo progetto ma anche delle amministrazioni comunali coinvolte. L'avvocato Guglielmo Piazza che ha seguito la vicenda dal suo esordio oggi interviene per spiegare profili normativi istituzionali e politici. Bisogna un attimo distinguere quelli che sono gli aspetti politici da quelli che sono gli aspetti istituzionali perché purtroppo nonostante tutto si nota un atteggiamento quasi da tifoserie sul campo rispetto a questa vicenda e questa è una cosa molto grave perché di fronte alla conclamata anche violazione di una legge vigente stiamo parlando dell'articolo 44,2 perché non è finita qui da questo punto di vista noi ci ritroviamo ad avere un assetto istituzionale degli enti intermedi di secondo livello che ancora non è completo e nonostante ciò si cerca di indire le elezioni degli organi rappresentativi di questi enti. Questa è una cosa veramente grave perché dal punto di vista delle regole istituzionali se non funzionano quelle, se non c'è il rispetto di queste regole poi diventa anche complicato pensare ad ulteriori sviluppi futuri di qualsiasi altro tipo di progetto. Posso che la vicenda riguarda intere comunità che hanno scelto quindi di ridisegnare i confini delle ex province. A questi soggetti, Avvocato, oggi cosa diciamo? Beh, diciamo è piuttosto grave l'affossamento di questi DDL da parte del plenum dell'Assemblea su un parere della prima commissione che certamente rimanda la patata bollente e lascia il cerino in mano al governo regionale perché, attenzione, non è finita qui. Quindi, voglio dire, l'articolo 44 della legge regionale 15 del 2015 in atto è vigente e prevede un determinato iter. Con le motivazioni adotte in Assemblea da parte del relatore onorevole Cascio innanzitutto il relatore riconosce la validità del percorso normativo che ha portato le comunità a questa scelta di migrazione. E questo è importante sottolinearlo, a prescindere dal fatto che il referendum si riferisse a qualcosa. In ogni caso, la legge regionale 15 del 2015 prevedeva un altro passaggio che era l'unico imposto della legge, che era quello della delibera consigliare. Il problema è che viene rimandata la responsabilità al governo regionale per una carenza di istruttoria in relazione a quelli che sono gli aspetti economici, diciamo, del regolamento economico fra i vari enti. In realtà questa è una motivazione strumentale, è evidente, anche perché i DDL che erano stati presentati in Assemblea all'articolo 2 prevedevano un determinato meccanismo di regolamento dei rapporti. Ma questo ovviamente sta nelle prerogative dell'Assemblea decidere il come fare le cose, ma in questo specifico caso non sta nei poteri dell'Assemblea, trattandosi di una legge provvedimento, il decidere se farne o meno. Lo devono fare.